Il terremoto elettorale dello scorso 4 marzo ha avuto ripercussioni anche a livello regionale, con alcuni parlamentari eletti che hanno lasciato loro in carico e altri accompagnati alla porta in modo più o meno burrascoso. E così Mario Oliverio è stato costretto a mettere mano al suo esecutivo per portare avanti la legislatura fino a scadenza naturale, sebbene qualcuno ipotizzi che abbia almeno sei mesi in più, vista l'eventualità di unificare tutte le scadenze delle regionali la primavera 2020. E così, finalmente dopo settimane, la montagna ha partorito il topolino con tre nuovi assessori donne, in tre punti chiave. Noi abbiamo chiesto a Paolo Tramonti, segretario regionale della CGL, che cosa ne pensa. Diciamo che ovviamente è importante aver definito i nuovi assetti di giunta, i nuovi assetti istituzionali relativamente al governo regionale. Ovviamente, al di là dei nomi che noi rispettiamo tutti, ci baseremo il nostro giudizio, come al solito, sulle azioni concrete che questa nuova giunta vorrà mettere in atto. Noi riteniamo che ormai è arrivato il momento in Calabria di abbandonare le teorie e andare sulle cose concrete. E per quanto ci riguarda, le cose concrete devono essere caratterizzate, per quest'ultimo scorcio di consigliatura regionale, da un'intesa forte tra tutti i soggetti del partenariato economico e sociale, insieme al governo regionale, sui temi del lavoro, della crescita e dello sviluppo del sociale e della legalità. Noi su questo siamo fortemente disponibili. Crediamo che non ci sia più tempo da perdere per la definizione di un piano strutturale e organico del lavoro e per l'occupazione legato agli investimenti. Un piano per il lavoro che guardi alla nuova occupazione, alla stabilizzazione del precariato, al contrasto al lavoro nero e sommerso e alla ricollocazione attraverso anche percorsi formativi dei tanti lavoratori che in questi anni sono stati espulsi dal circuito produttivo e che finora sono stati collocati nel sistema degli ammortizzatori sociali, soprattutto quelli in deroga, e che oggi per la gran parte sono privi di qualsiasi copertura sociale. Quindi riteniamo che su questo il governo regionale debba veramente caratterizzare la propria azione. Per quanto ci riguarda siamo disponibili e crediamo che sia arrivato il momento che in Calabria si metta mano ad un'intesa complessivo, ovviamente nel rispetto dei reciproci ruoli e delle proprie autonomie, ma sia arrivato il momento di mettere in campo un'intesa forte perché solo così possiamo traguardare questo perenne momento di difficoltà che continua a vivere nella Calabria. Per fare tutto questo, basterà il poco tempo di qua alla fine della legislatura? Diciamo che la Calabria oggi ha anche delle grandi opportunità. Io penso al POR Calabria, al PSR, piano di sviluppo rurale, al patto per la Calabria, al patto per l'area metropolitana di Reggio Calabria, che mettono in campo a favore della nostra regione da qui al 2020 risorse importanti. Quindi noi riteniamo che ci sono le condizioni da qui al 2020 per mettere in campo un'azione organica che possa dare risposte sui temi nevralgici della nostra regione.